Salve, sono la professoressa Sonia D'Alessio della scuola Mendola di Sarno. Io mi vorrei soffermare su uno dei mostri infernali che maggiormente colpisce il nostro immaginario e che è Caronte, il nocchiero della livida palude, che già da bambina in realtà mi colpiva tantissimo. Imparai a memoria all'epoca i versi e non li ho più scordati. Ci provo. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando «Guai a voi, anime brave! Non isperate mai vederlo cielo! I, vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo! E tu, che sei così, anima viva, partiti da cotesti che son morti!» Ma poi che vide che io non mi partiva, disse «Per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare, più lieve legno convien che ti porti!» E il duca a lui «Carò non ti crucciare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare!» Quinci furquete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di flamme ruote. Grazie a tutti!